La presenza industriale di Coca-Cola in Italia ha più di 90 anni ed essere parte di una comunità non significa solo acquistare bene i servizi nel paese, avere fornitori, dare lavoro, ma significa anche fare piccoli gesti concreti, soprattutto nel momento del bisogno. Per questo motivo dopo i primi giorni di allarme abbiamo pensato di donare prodotto ai medici, infermieri, a tutti gli operatori sanitari in prima linea contro il virus e ad oggi 27 sono gli ospedali che hanno ricevuto prodotto dalle nostre fabbriche, dai nostri magazzini, oltre 16.000 tra medici e infermieri. Oltre a questo molte persone hanno bisogno di cibo, hanno difficoltà a trovarlo, noi da molti anni collaboriamo con Banco Alimentare e altre organizzazioni non governative, per questo anche qui stiamo fornendo del prodotto. Ma negli stabilimenti che come i nostri si preoccupano e hanno la responsabilità di prodotti alimentari, tanti sono anche dispositivi di sicurezza individuale che vengono utilizzati, dispositivi che in questo momento servono enormemente e siccome le nostre fabbriche purtroppo stanno lavorando molto più lentamente, li stiamo anche fermando a rotazione perché ovviamente i prodotti non si vendono, i magazzini sono pieni, abbiamo pensato di donare anche quei materiali, quindi occhiali di protezione, guanti, copri scarpe ad alcuni degli ospedali più vicini ai nostri siti di produzione. Sono piccoli gesti come donare il pasto ad asporto ad alcuni dei trasportatori che vengono a prendere i nostri prodotti, sono piccoli segnali per ricordare che noi ci siamo, siamo parte di questo paese, siamo parte di questa comunità, al di là dei progetti più importanti, delle donazioni, delle collaborazioni che stiamo attivando perché spesso nei piccoli gesti si nascondono significati veramente grandi.